Nessuna scorciatoia per il tunnel di San Girolamo. Tra le tre soluzioni progettuali proposte da ANAS per chiudere il cantiere del secondo rotto della nuova Lecco Bergamo, fermo d'anni, non c'è l'uovo di Colombo. Le ipotesi sono state illustrate ai consiglieri comunali di Lecco. Entro breve, insieme agli altri enti locali coinvolti, saranno chiamati ad esprimersi su quale via intraprendere per concludere i due chilometri e mezzo di tunnel Fraciuso e Calolzio, i cui lavori sono iniziati una decina d'anni fa e si sono arenati per via di problemi di progettazione. Oltre a risolvere queste criticità, i progettisti di ANAS hanno dovuto fare conti con le nuove disposizioni previste dagli adeguamenti normativi, dalla prima progettazione dell'opera, lo ricordiamo, sono trascorsi quasi 15 anni, e gli aumenti dei costi dei materiali. Partiamo dai soldi. A oggi i fondi a disposizione per la realizzazione di quest'opera ammontano a circa 250 milioni di euro, cifra quasi tre volte superiore allo stanziamento iniziale previsto. Le tre ipotesi presentate da ANAS non prevedono modifiche sostanziali ai punti di ingresso e uscita dal tunnel già realizzati. Due progetti prevedono l'utilizzo di una tecnica di scavo con palificazione, una invece con la talpa meccanica. Cosa cambia? Nel primo caso è necessario prevedere un'area dove stipare le terre di scavo. La tecnica tradizionale, diciamo così, costa però molto meno di quella con la talpa meccanica. ANAS avrebbe individuato l'area dove stoccare le terre di scavo nel parcheggio del Bione, dove, per intenderci, ogni anno a Pasqua arrivano le giostre. I due progetti, con tecnica tradizionale, si differenziano invece nel tracciato. Il primo è in linea con quello del precedente progetto. Il secondo è invece più lungo e costoso, ma meno impattante per logistiche ed espropri. Fra le tre soluzioni, ANAS ha segnato un punteggio maggiore a quest'ultima. Il quadro economico va dai 230 ai 300 milioni di euro a seconda della soluzione scelta. Non variano invece le tempistiche, almeno due anni per la progettazione e cinque per la realizzazione.